Con un morso ha staccato un pezzo d'orecchio al padrone di un cane che passeggiava in centro. Il motivo? Non voleva che accarezzasse l'animale. Scena horror. Nei giorni scorsi a Monza, l'aggressione è venuta in Via Italia, vittima un cittadino inglese di origine russa residente in città. Sanguinante, raccontato agli agenti della Polizia di Stato di essere stato avvicinato da due giovani italiani che, dopo aver chiesto di accarezzare il suo cane, hanno iniziato, nel mezzo della folla, a spintonarlo e a prenderlo a pugni. Uno di loro, ha spiegato ai poliziotti, dopo averlo fatto cadere a terra, gli si è scagliato addosso e con un morso gli ha staccato la parte superiore dell'orecchio. Portato al pronto soccorso del San Gerardo, è stato diagnosticato il distacco di circa due centimetri e mezzo della parte superiore del padiglione auricolare, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Poco dopo, anche grazie alle descrizioni dei testimoni che hanno assistito alla scena e alla visione delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della squadra volanti hanno rintracciato e identificato l'aggressore, un ventenne italiano. Il movente, dopo una carezza fatta al cane, il padrone dell'animale avrebbe offeso i due ragazzi, facendo scattare la loro violenta reazione. L'autore dell'aggressione è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso e indagato in stato di libertà dalla Procura per il reato di lesioni aggravate. Il questore, a tutela della sicurezza e incolumità pubblica, ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale nei confronti del ventenne.